Siero dato Gesù Cristo e avanti con Maria carissimi amici di Radio Domina Nostra bentrovati a tutti voi per questa puntata significativa con cui iniziamo il nostro percorso attraverso il Vangelo di Giovanni, il quarto Vangelo, considerato da sempre il Vangelo spirituale, come lo chiamava Clemente Alessandrino, uno dei padri della Chiesa. Allora noi inizieremo questo ciclo di Catechesi a Dio piacendo proprio per sondare, approfondire, entrare nella profondità di questo Vangelo che può essere paragonato a un fondale marino, oppure alle vette dell'Himalaya. Proprio un Vangelo che, anche per il fatto che è stato scritto dopo gli altri tre, è quello che fa sintesi di tutto. Mi sono deciso a fare questa percorrenza con voi, questo pellegrinaggio attraverso il quarto Vangelo, perché le ragioni quali sono? Le ragioni sono diverse, ma lo dico subito perché il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, proprio come vedremo per il fatto che annuncia in maniera chiara e inequivocabile che Gesù di Nazareth è il figlio di Dio e che il verbo incarnato preesisteva da sempre come seconda persona della Trinità, perciò questo Vangelo, più di tutti gli altri tre Vangeli, è quello che maggiormente esprime, direi, il baluardo di fronte all'impero neo-ariano che ormai è sotto gli occhi di tutti. Allora quindi noi stasera inizieremo questo percorso dopo aver sondato l'anno scorso, più o meno cominciando in questo periodo, il Vangelo della Passione di Cristo che ha preso corpo in un libro dal titolo Liamosino alla fine e di recente abbiamo fatto il ciclo di catechesi sul Vangelo dell'infanzia. Ecco, adesso noi ci dedicheremo a questi 21 capitoli del quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni. La catechesi di questa sera è una catechesi introduttiva, appunto, è un'introduzione al quarto Vangelo. Allora vorrei iniziare con Sant'Agostino. Sant'Agostino ha scritto un mirabile commento al Vangelo di Giovanni, non è l'unico naturalmente, anzi direi che ce ne sono tantissimi, direi che fondamentalmente quasi tutti i padri della Chiesa hanno sentito il bisogno di misurarsi e di confrontarsi con le profondità del Vangelo del Logos, come viene chiamato, cioè il Vangelo del Verbo di Dio. Però credo, eccolo qui, il mio testo di Sant'Agostino, eccolo qui, è abbastanza impegnativo, come vedete anche dalla Mole, che con Sant'Agostino abbia scritto uno dei testi, secondo me, più affascinanti, realmente affascinanti, uno dei testi più affascinanti riguardo al quarto Vangelo. Condivido, peraltro, la ragione per cui Sant'Agostino commenta il Vangelo di Giovanni. Secondo lui, cioè secondo Agostino, mentre i Vangeli sinottici, che sono Marco, Matteo e Luca, hanno seguito il Signore, sono parole di Sant'Agostino, nella vita terrena, considerandolo soprattutto perciò nella sua umanità dalla quale rifulgeva la sua divinità. Giovanni, l'Evangelista, lo ha visto invece, come vi dicevo poc'anzi, nella sua presistenza e ha elevato il suo annuncio ad altezze, direi, vertiginose. Per questo, vorrei dirvi già da stasera, ma penso l'avrete capito, è anche il mio Vangelo preferito, quello di Giovanni, perché, come vi stavo dicendo, è un baluardo insormontabile di fronte al neo-arianesimo dilagante nella falsa chiesa. Che cos'è il neo-arianesimo? Il neo-arianesimo è una riproposizione dell'eresia ariana. Ario era un sacerdote di Alessandria, d'Egitto, del IV secolo, che ha negato la divinità di Cristo, sottolineando esclusivamente la sua natura umana, o comunque negando che egli fosse preesistente, che fosse della stessa sostanza del Padre. Oggi noi siamo in presenza, nella Chiesa cattolica, in presenza di questa piaga che, io come tante volte dico nelle mie catechesi, sono tre le piaghe che la falsa chiesa eretica porta avanti. Anzi, a proposito, ho saputo che la conferenza episcopale italiana si dà da fare per rendere noto nei foglietti della domenica che chi segue Don Minutella incorre nella scomunica late sentenzie. Si vede che sono come i poveri malati di cancro che tanto ne parlano per far capire che non ci credono. Questi non ci credono che le scomuniche sono vere, per questo la ribadiscono continuamente. In realtà scomunicati sono loro. La falsa chiesa ha tre caratteristiche, neo-ariana, neo-luterana e neo-modernista, ma fra le tre eresie la più perniciosa è quella neo-ariana, perché tocca il dogma centrale, il perno fondamentale della nostra fede cristiana, che è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Quando dovesse esserci un papa, una chiesa, che va in giro per il mondo a stringere la mano alle altre religioni, rinunciando però ad annunciare che Gesù Cristo è il Signore, allora quella lì non sarà più la chiesa di Gesù Cristo, non è più la sposa di Cristo, è una concubina, è un'adultera, è una prostituta, è una meritrice, ma non è la sposa di Cristo. Ecco, non è la sposa di Cristo. Allora, io ho scelto il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, che è un pugno allo stomaco. Per chi conoscesse il Vangelo di Giovanni sa che sto già dicendo il vero. Il quarto Vangelo, il Vangelo del Logos, è un pugno allo stomaco del neoarianesimo contemporaneo, perché afferma inequivocabilmente che questo Gesù Cristo ha come soggetto la seconda persona divina, come fra un momento vedremo. Il quarto Vangelo, allora, è a noi caro. Il quarto Vangelo è una perla per noi del piccolo resto cattolico. Il quarto Vangelo, quarto perché viene dopo i primi tre, Marco, Matteo e Luca, quindi Giovanni il quarto Vangelo è per noi un tesoro incastonato di fronte alla nostra iupomonè, di fronte alla nostra testimonianza, alla nostra resistenza, perché adesso le cose si fanno sempre più serie, il nuovo ordine mondiale si svavviluppando sempre di più con ogni evidenza. Ecco, noi ci teniamo caro a questo quarto Vangelo, tutti e quattro, ben inteso, ci mancherebbe, non è un fatto esclusivo, ma è in particolare questo, perché è come un carbone ardente nelle mani, il quarto Vangelo, degli eretici di ogni tempo. Io invito tutti voi, già da stasera, a fare un lavoro, dopo che termineremo la catechesi, di lettura personale, di approfondimento personale proprio della persona di Gesù Cristo nel quarto Vangelo. Come tante volte io ho detto, sapete che ho studiato alla Pontificia Università Gregoriana, presso i Gesuiti di Roma, e ricordo che nelle lezioni di Cristologia, erede del pensiero di Lonergan, Bernard Lonergan, si diceva proprio questo, quando noi parliamo di Gesù Cristo, dobbiamo sempre sottolineare la sua natura teandrica, che significa la sua natura teandrica, viene dal greco, teos, che vuol dire Dio, anerandros dal greco vuol dire uomo, vero Dio, vero uomo. Lo sbilanciamento in uno dei due versanti è eresia, capite? Ecco. Allora, il quarto Vangelo, vi dicevo, è come carbone ardente nelle mani degli eretici di ogni tempo. Ario, per esempio, detestava il quarto Vangelo, non ne voleva sentir parlare, Ario, il primo grande eretico della storia cristiana. Lutero, Martino Lutero, rinunciava a commentarlo. Ci sono commenti di Lutero sulla lettera ai Romani, di Paolo, mi ricordo quando studiavo teologia all'università, mi sono confrontato con quei testi lì, e ci sono commenti al Vangelo di Luca, poi soprattutto Lutero che credeva nel fatto che bisognasse accogliere unicamente la grazia di Dio rimanendo peccatori, era molto legato al discorso della montagna del Vangelo di Matteo, ma difficilmente Lutero riusciva a confrontarsi col Vangelo di Giovanni, e lo faceva solo quando non poteva farne a meno. Oggi la falsa Chiesa, ecco, come si può vedere bene, ignora quasi del tutto platealmente il quarto Vangelo, perché la falsa Chiesa è palesemente neo-ariana. Ciò che più di tutto conquista nel Vangelo di Giovanni, vi ripeto questa sera è solo un'ampia introduzione che spero di concludere nel tempo che mi sono prefisso, e poi dalla prossima volta inizieremo col prologo, il capitolo 1 di Giovanni. Ecco, vi dicevo, ciò che più di tutto conquista in questo quarto Vangelo di 21 capitoli è come accadeva già a Sant'Agostino, è proprio la persona di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Si chiama in termini tecnici, amici cari, la cristologia. Come si chiama? La cristologia. Perché quale tipo di cristologia? La cristologia è lo studio, diciamo, la visione su Gesù Cristo. Allora il quarto Vangelo, come anche dirà Fonbaltas in uno dei suoi splendidi commenti domenicali quando teneva le omelie, il quarto Vangelo è quello che più di tutti sottolinea l'identità di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. L'accento, cioè, sulla divinità di Cristo, sul fatto che la persona, la persona di Gesù Cristo è divina ed è la seconda persona della Santissima Trinità. Allora l'accento che l'Evangelista Giovanni pone sulla divinità di Cristo è un faro luminoso che come ha illuminato la notte eretica nel tempo di Ario e nel tempo di Lutero può oggi illuminare il tempo di apostasia corrente. Se il quarto Vangelo, dunque, è un carbone ardente nelle mani e sotto gli occhi degli eretici, parimenti il quarto Vangelo, cioè il Vangelo di Giovanni, è un faro luminoso come lo è stato ai tempi. Per esempio, guardate, Atanasio, in questo testo qui dal titolo trattato contro gli ariani, che fu l'unico che lottò contro l'arianesimo in modo chiaro, perché tutti gli altri tacevano come sta succedendo ai nostri giorni, i pastori tacciono, i pastori tacciono, poveri, poveri pastori quando dovranno comparire dinanzi a Dio. Il Signore non chiederà loro conto, non so di quanto si sono arricchiti, ma chiederà conto di come sono venuti allo scoperto. Allora, Atanasio era uno che si richiamava continuamente al quarto Vangelo, perché? Perché lì, di fronte ad Ario che ne negava la divinità, il quarto Vangelo ne sottolinea invece l'identità divina, umano divina, teandrica appunto, capite? Non so se sono riuscito a spiegarmi, perché questi aspetti introduttivi sono fondamentali. Peraltro, peraltro, notate questo, Ario, per affermare che Gesù Cristo non è Dio come il Padre, deve avere evidentemente messo un po' da parte il quarto Vangelo, dove invece, già col prologo, questa identità è del tutto chiarificata. Ecco, Cristo è Dio, Gesù Cristo è Dio, fatto uomo, verbum caro factum est. Questa frase dovremmo scriverla, come vorrei fare io, alla porta d'ingresso di casa mia. Verbum caro factum est. Il cristianesimo è tutto qui. Quando si è rinunciato, come vediamo, dalle rovine, dalle macerie, della teologia raneriana post conciliare, a questa verità di fede fondamentale che c'è Gesù Cristo è vero Dio, possiamo assistere oggi alla manomissione massonica della Chiesa Cattolica del Vaticano di Roma, perché appunto non si afferma più che Gesù Cristo è Dio. Allora è possibile dire non più l'annuncio, non più l'annuncio, ma come lo chiamano il dialogo. Gesù Cristo è Dio, fatto carne. Verbum caro factum est. Va bene? Il verbo si è fatto carne. Kaio logos, sarks e geneto, in greco. Kaio logos, sarks e geneto, cioè il verbo di Dio, la seconda persona divina nella pienezza dei tempi. Nessuno è venuto sulla terra, si è incarnato nel grembo di Maria. Nessuno, come l'Apostolo Giovanni, ha saputo sottolineare questa verità profonda e pertanto il quarto Vangelo, figlioli cari, per noi che abbiamo incoronato Cristo, vero Dio, vero uomo, re del piccolo resto, il quarto Vangelo è veramente un'ancora di salvezza. Ecco, questo è l'annuncio profondo del quarto Vangelo. Poi, come vedremo, si sviluppa attraverso tante tematiche, ma la cristologia dall'alto, cioè il fatto che si parta dal soggetto divino che si fa carne, e questo l'annuncio profondo del quarto Vangelo è ciò che accompagna tutta la trama del Vangelo stesso. Dio si è fatto uomo. Ancora, Sant'Agostino, che io terrò, come potete capire già da questa introduzione molto presente nelle mie catechesi, diceva, guardate che bello quello che diceva, che il Vangelo di Giovanni è come una medicina, farmaco, è un farmaco, una medicina che cura le ferite profonde prodotte alla chiesa dall'eresia. Cioè lui diceva, la chiesa è come la sposa di Cristo, le eresie la lacerano, non le persecuzioni. Questo è interessante, oggi è stato Sant'Agata, le persecuzioni anzi addirittura fortificano nella fede, sono le eresie che sono un danno per la chiesa. Allora il quarto Vangelo, diceva Sant'Agostino, è come una medicina che cura le ferite profonde dalle eresie perché semplicemente presenta Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Leggiamo allora insieme in questa introduzione ciò che Sant'Agostino, in questo testo qui, come commento al Vangelo di San Giovanni, ha potuto scrivere, ecco ve lo leggo perché trovo che è molto bello, scrive nell'Omelia 36, fra i quattro Vangeli, o meglio, fra i quattro libri dell'unico Vangelo, il Santo Apostolo Giovanni, giustamente paragonato all'Aquila, fra un momento lo vedremo, l'Apostolo Giovanni è stato paragonato all'Aquila, per la sua intelligenza delle cose spirituali, più degli altri tre, si intende, gli altri tre evangelisti, ha elevato il suo annuncio ad altezze vertiginose, deciso a trascinare nel suo volo anche i nostri cuori. Non trovate che è molto bello questo? Cioè, Sant'Agostino sta dicendo, l'Aquila è Giovanni che scrive il Vangelo, il suo Vangelo lui lo scrive affinché anche noi siamo attratti all'altezza, con i nostri cuori all'altezza, all'altezza del suo volo. Gli altri tre evangelisti, infatti, hanno seguito il Signore nella sua vita terrena considerandolo quasi solo nel suo aspetto di uomo, ecco, e hanno detto poco, è sempre Sant'Agostino, della sua divinità, mentre questi, cioè San Giovanni, quasi sdegnasse di camminare sulla terra, di colpo si sollevò al di sopra della terra e degli spazi celesti, al di sopra delle stesse schiere angeliche e di tutti gli ordini delle potenze visibili e pervenne a colui per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose dicendo, e qui Agostino cita il prologo con cui anche noi inizieremo la prossima volta, in principio era il verbo, e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio, questi era in principio presso Dio e ancora tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto, di tutto ciò che esiste. E devo dirvi anche per esperienza personale, cari figlioli miei che mi seguite con tanta pazienza, che la lettura dei Vangeli in generale, però particolarmente del Vangelo di Giovanni e in modo del tutto particolare il prologo è una lettura di carattere esorcistico, tutti noi cioè lottiamo contro le tentazioni, contro lo spirito del male, contro Satana per rimanere fedeli al Signore. Bene, la lettura del Vangelo di Giovanni in particolare il prologo è un ottimo antidoto contro gli attacchi di Satana. Aggiunge ancora Sant'Agostino, a tale sublimità di esordio, si riferisce al prologo, adeguò tutto il Vangelo. Cioè Sant'Agostino vuole dire non è stato solo il prologo che ha permesso di pensare Giovanni come un'aquila che vola alta, ma tutto il Vangelo poi è adeguato a questo tenore elevato con cui va avanti e come nessun altro egli ha parlato della divinità del Signore. Vorrei leggervelo in latino perché trovo che è molto bello, sapete che Sant'Agostino era un esperto di lingua latina, un retore, un oratore di grande rilievo, e diceva così, ecco, diceva così Sant'Agostino, uic tante sublimitati principi etsiam cetera congrua predicavit, et de domini divinitate comodo nullus alius est locutus, in modo tale che nessuno ne ha saputo della divinità di Cristo parlare meglio come ha saputo fare lui. E poi guardate cosa aggiunge, non per nulla si dice, sempre Sant'Agostino che sta parlando ai suoi fedeli, ha fatto anche lui commento al Vangelo di Giovanni come l'iniziamo noi, ecco, e quindi è molto bello pensare questo percorso della tradizione che prosegue, dice Sant'Agostino ai suoi fedeli, con profusione comunicò ciò che aveva bevuto alla fonte, ok ructabat quod biberat, questo andrebbe imparato a memoria talmente incisiva come espressione, ok ructabat quod biberat, cioè, appunto viene tradotto così con una perifrasi, con profusione comunicò ciò che aveva bevuto alla fonte, letteralmente ha eruttato ciò che ha bevuto, nel senso ha tinto lui alle sorgenti del mistero e Giovanni, cioè, e poi ha trasmesso a noi questo Vangelo che sonda come l'aquila che guarda la luce dei raggi del sole e non ne rimane abbaiato, ha trasmesso a noi la profondità cristologica, la identità teandrica del figlio di Dio, vero Dio, vero uomo, tutto questo noi lo stiamo dicendo anche per trovare un percorso che ci aiuti a scoprire quella percorrenza del punto alfa che Fonbaltasar raccomandava dopo il concilio e che lamentava essere stato assente al concilio, il punto alfa che appunto è Gesù Cristo. Quando noi vediamo oggi una falsa chiesa che diventa multinazionale del dialogo interreligioso e non annuncia più Gesù Cristo, noi del piccolo resto non possiamo fare altro che come Giovanni fissare il nostro sguardo su Gesù Cristo come l'aquila fissa i raggi del sole. Con profusione comunicò ciò che aveva bevuto alla fonte. Non per nulla si dice di lui in questo medesimo Vangelo che nell'ultima cena, eccolo qui l'immagine più forte, stava appoggiato sul cuore del Signore. Vi ricordate questo brano molto bello di Giovanni stesso al capitolo 13, versetto 23, quando inizia il racconto della passione del Signore e si legge che Giovanni poggia il suo capo sul petto di Cristo. I padri della chiesa già orientali e poi anche latini come Agostino hanno visto in questo un'immagine plastica e quella che vi ho proposta anche come immagine di copertina di questo ciclo di catechesi sul quarto Vangelo, Giovanni appoggiato sul petto di Gesù. Ha sentito Giovanni col suo orecchio, più quello del cuore che quello fisico ha sentito i palpiti, i battiti del cuore divino umano di Cristo e perciò dice Sant'Agostino nell'ultima cena stava appoggiato sul cuore del Signore, da quel cuore, qui veramente tocchiamo vertici altissimi, io trovo sempre molto bello leggere queste cose, da quel cuore, il cuore di Gesù dove noi poi peraltro dobbiamo sempre rifugiarci nei momenti difficili, nei momenti di prova, come ha fatto Giovanni da quel cuore segretamente attinse e ciò che segretamente aveva attinto pubblicamente proclamò, affinché fosse nota a tutti i popoli non solo l'incardazione del figlio di Dio, la sua passione e risurrezione, ma altresì ciò che era prima dell'incarnazione, unigenito del padre, attenzione questo a riguardo degli eretici neoariani della falsa chiesa che oggi è al governo, unigenito del padre, ecco, unigenito del padre, unicus patri, ecco poi dice verbo del padre, verbum patris, coeternus generanti, coeterno a colui che lo generò, e quali sei a cuo missus est, uguale a colui che lo mandò. Vedete che qui è molto chiara la presa di posizione cattolica, la presa di posizione ortodossa, poi i vescovi italiani che si prostrano dinanzi a Enzo Bianchi facciano quel che vogliono nello scrivere nei foglietti della domenica che don minutella eretico e chi lo segue eretico, ma questo l'avevamo annunciato, noi ce ne rimaniamo tranquillamente cattolici anche se ci passano per eretici, per settari. Sant'Agostino è chiaro e questo andrebbe detto agli eretici neoariani, maledetti eretici, perché lo dice Agostino, e quali sei a cuo missus est? Cioè, ecco, San Giovanni l'Apostolo è quello che ha scritto il Vangelo perché avendo poggiato nell'ultima cena, poi sarà anche ai piedi della croce, poi sarà custode della Madonna, poi sarà a fianco di Pietro, insomma, le vedremo queste cose, ma è colui che avendo poggiato il capo sul cuore umano divino di Cristo, ha potuto coglierne la sua identità profonda, uguale a colui che lo ha mandato, e quali sei a cuo missus est? Non finisce qui, sed in ipsa missione minor factus quo maio res et pater, e cioè diventato inferiore della missione, affinché il padre risultasse maggiore di lui. Ecco, trovo che questa introduzione di Sant'Agostino è veramente splendida, mi scuso se con chi non conosce il latino, ma penso che anche chi non conosce il latino avrà colto la profondità, la bellezza, l'intensità di queste espressioni qui, che fanno veramente capire a quali livelli ci conduce il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni. E pertanto, come vi stavo dicendo, in fondo il quarto Vangelo ci aiuta a fissare gli occhi sul punto alfa. Ecco una cosa che abbiamo detta soprattutto in preparazione al raduno di Cavaillon Veronese, e poi contestualmente nel raduno, e cioè noi di fronte a questo magma caotico che si è creato nel postconcilio, siamo quelli che vogliamo fissare lo sguardo su Gesù Cristo, vogliamo fissare lo sguardo su Gesù Cristo, tutto il resto non ci importa, noi vogliamo essere come la prima comunità cristiana, la prima comunità credente che fissa lo sguardo su Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, dobbiamo tornare ad appassionarci di Lui, dobbiamo tornare a innamorarci di Gesù Cristo, dobbiamo tornare a fissare il nostro sguardo di credenti su di Lui, sul punto alfa, sul Gesù Cristo. E il Vangelo certamente ci aiuta. Dunque adesso io, in questo tempo che ho a disposizione, in questa introduzione, dopo questa parola e questa premessa, vi parlerò dei seguenti punti, la storia del Vangelo, l'autore, la formazione del Vangelo e la struttura. E per questa sera, grazie a Dio, abbiamo concluso, poi dalla prossima volta inizieremo direttamente la lettura e il commento dei testi del Vangelo. Iniziamo con la storia di questo Vangelo. Dunque, il quarto Vangelo, questo l'abbiamo già detto in qualche modo, adesso lo sottolineiamo maggiormente, il quarto Vangelo è il più singolare dei quattro. Ecco, il più singolare dei quattro. Già Clemente Alessandrino, non so chi di voi lo conosca, è un padre della Chiesa, nel III secolo chiamava il Vangelo di Giovanni, Vangelo spirituale. Ecco, io trovo che oggi, figlioli cari, attenti bene a quello che sto per dirvi, circolano molte spiritualità nella Chiesa, in questo magma caotico del poste concilio. Soprattutto trovo predicatori che si attardano molto sulle questioni, diciamo così, catechetiche relative alla lotta contro il diavolo e queste e quelle altre cose lì. Tutte cose molto belle, molto importanti. Però ripartiamo da Cristo, prendiamoci per mano noi della Iupomonè, della resistenza cattolica, e tenendoci per mano tutti insieme attraverso il Vangelo di Giovanni, fissiamo tutti insieme il nostro sguardo su Gesù Cristo. È Gesù Cristo che deve abbagliarci con il suo sguardo. Ricordate che lo stesso Giovanni poi nell'Apocalisse scriverà che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco. Io talora mi domando come riesco ad andare avanti, nonostante due scomuniche, la rimozione della parroca, la sospensione divinis, la crocifissione ininterrotta da parte della falsa chiesa. Bene, devo dirvi la verità. Io quando guardo Gesù, sia che lo guardo nell'ostia santa, sia che lo guardo nell'icona, sia che lo guardo nel mio cuore, trovo nuovo slancio, trovo nuova forza. È lui la nostra forza, Gesù Cristo. Ecco, allora è il più tardivo dei quattro Vangeli, il quarto Vangelo. È anche quello che ha avuto una storia redazionale, come si dice, più lunga. Secondo gli studiosi, attenti bene qui, l'arco di tempo in cui è stato scritto va dal 30 dopo Cristo, sapete cos'è questo anno qui? È quello della risurrezione di Gesù, il 30 dopo Cristo, quindi l'anno della risurrezione, fino intorno al 100 dopo Cristo. Dunque, secondo gli studiosi più accreditati, tra questi Brown, Raymond Brown che ci accompagnerà, ovviamente non poco nella lettura dei brani del Vangelo. Dunque, secondo questi studiosi, il quarto Vangelo è stato scritto un arco di tempo mica ridotto. Addirittura, secondo alcuni di questi studiosi, sarebbe stato scritto un arco di tempo che è di 70 anni. Ecco, Brown rigetta, il nostro Brown, la tesi di un esegeta di nome Loisy, Alfred Loisy, che l'ha lodata come stesura addirittura al 150 dopo Cristo. E propone, Brown, questa possibile annotazione cronologica che io condivido pienamente, che è quella del 100 dopo Cristo. Ma questo è ormai risaputo, cioè che, con ogni evidenza, il Vangelo di Giovanni, almeno nella sua stesura finale, è stato composto e concluso intorno al 100 dopo Cristo. Quindi appunto 70 anni circa dopo la risurrezione di Gesù, quando ormai la prima comunità cristiana andava diffondendosi nel bacino del Mediterraneo, grazie anche alla spinta missionaria di Paolo. Allora Giovanni, allora io credo in questa cosa qui, cioè lui, Giovanni, avrà tenuto un'agenda, diciamo così, è quello che io penso, ma naturalmente è quello che io penso, ma Giovanni avrà tenuto un'agenda, una rubrica, chiamiamola così, dopo la risurrezione, nella quale nell'arco addirittura di più di un cinquantennio lentamente ha tirato fuori questa gemma preziosissima, questo capolavoro inestimabile, questo patrimonio insuperabile, che è appunto il quarto Vangelo. Dunque, come data di composizione finale, ma finale però, non come se Giovanni l'avese scritto tutto in una sola volta, perché tante volte forse noi pensiamo questo, ma come data di stesura finale, come redazione finale, siamo intorno al 100 dopo Cristo. È già da 70 anni circa che nostro Signore Gesù Cristo è risorto e che gli apostoli si sono diffusi nel mondo. A questo punto, dopo aver parlato della storia, vediamo chi è l'autore di questo quarto Vangelo, perché noi, grazie a Dio, l'odiamo per scontato, ma cosa volete, figli cari, sapeste quante ne ho sentite io quando studiavo alla Gregoriana? Allora, vediamo un po' che cosa si dice a riguardo dell'autore. La tradizione cristiana identifica l'autore del quarto Vangelo con l'apostolo Giovanni, fratello di Giacomo, entrambi figli di Zebedeo, che Gesù, come vi ricordate nei Vangeli, chiama a seguirlo. E loro lasciate le reti, siamo sul lago di Galilea, il lago di questa tradizione attestata già nei primi secoli, come ora vedremo, l'autore del Vangelo è l'apostolo Giovanni. Ed è sempre stato rappresentato, lo dice anche Sant'Agostino poc'anzi in quel bellissimo testo che avete sentito, è stato sempre rappresentato col simbolo dell'aquila. L'aquila è l'animale che sa guardare il sole e perciò Giovanni è quello che entra nel mistero di Dio perché sta appoggiato, non dimenticate mai questa immagine che vi ho presentata come logo, sta appoggiato sul petto di Cristo ed è presentato, lui stesso si presenta come il discepolo che Gesù amava. Nel Vangelo poi che è fatto da i 21 capitoli e noi troviamo anche la firma. La firma? Sì, sì, troviamo la firma. Già Paolo faceva questo, se voi leggete qualche una delle lettere di Paolo c'è scritta questa firma è mia, fatta da me stesso, di mia mano. Ecco, Paolo firmava le sue lettere. Questo non è una lettera, è un Evangelion, cioè un Vangelo, ma Giovanni al capitolo 21, versetto 24, lascia una firma autografa perché scrive, questi è il discepolo, quindi questa è la fine del Vangelo, che rende testimonianza di queste cose e che le ha scritte. Giovanni, figlio di Zevedeo, fratello di l'Apostolo Giacomo, aveva cominciato come discepolo di Giovanni Battista ed è per questo che nel prologo, come vedremo, sempre l'Apostolo Giovanni sente il bisogno di precisare che il Battista non è il Messia. Ecco, capitolo 1, versetto 8, non era lui la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Poi però, come si legge nel Vangelo stesso di Giovanni, insieme ad Andrea incontra Gesù e rimane folgorato. Io, sin da piccolo, sono rimasto incantato da questo episodio della vocazione dei primi due Apostoli, come viene raccontato nel Vangelo di Giovanni, che viene considerato un Vangelo simbolico, come ora vedremo, non storico, ma Giovanni dà dei dettagli. Per esempio, erano le quattro del poveriggio, dice Giovanni, quando ha incontrato Gesù. Oppure dice che c'era molta erba quando si moltiplicano i pani. Ecco, allora si mette alla sequela di Gesù di Nazareth e gli rimane fedele come l'unico Apostolo fino al Calvario, fino alla croce. Come sappiamo, gli altri Apostoli fuggono, Giovanni invece è quello che rimane fino in fondo. Egli, Giovanni di Zebedeo, con Pietro è anche poi il primo testimone della risurrezione di Gesù, un testimone oculare ed esclusivo di tutta la Pasqua del Signore. Solo lui, solo Giovanni, passa dal Calvario al sepolcro vuoto. Pensate questo, forse non l'avevamo mai considerato. Cioè l'Apostolo Giovanni, Dio lo ha costituito, forse anche per il fatto che aveva appoggiato il Giovedì Santo la testa sul petto, sul cuore umano divino di Cristo. Giovanni è l'unico degli Apostoli, ma proprio l'unico, neanche Pietro è arrivato a questo, che è passato dal Calvario al sepolcro vuoto. Quindi l'estensione pasquale l'ha vissuta in tutta la sua interezza ed è l'unico che lo ha potuto fare. Soprattutto lui, ai piedi della croce, come si legge al capitolo 19, versetti 26-28, stiamo parlando dell'autore del quarto Vangelo, ha avuto in consegna la madre, la Madonna. Gesù gli affida sua madre, ecco tua madre, ecco tua madre, e affida la madre il discepolo, ecco tuo figlio. E su tutti rimane incisivo il quadro di Giovanni 13,25, come vi ho detto, chinandosi sul petto di Gesù nel Cenacolo. I padri della Chiesa, in particolare Origene, hanno potuto vedere qui il discepolo che penetra nei misteri profondi del cuore di Cristo. Origene parlerà dell'epistetos in greco, cioè colui che va nella profondità. E questa è la missione del teologo, la missione del predicatore, la missione del pastore, attingere alle profondità dell'amore divino umano di Cristo, riempirsi di Cristo, saturarsi di Cristo, per poi direi spontaneamente donarlo agli altri, capite? Oggi noi assistiamo a una falsa Chiesa dove Gesù Cristo non è più al centro, notatelo, Gesù Cristo non è più al centro. Ecco, allora noi come l'Apostolo Giovanni siamo chiamati, soprattutto noi pastori, predicatori, teologi, a immergerci nelle profondità, negli abissi insondabili del cuore umano divino di Cristo, Gesù, per poi poterlo narrare agli altri. Alla fine egli, come stavamo dicendo, si presenta come il discepolo che Gesù amava. Sono in tutto sei nel Vangelo di Giovanni i passi in cui si parla del discepolo che Gesù amava. 13-25 sul petto di Gesù, il discepolo che Gesù amava. 19-25 ai piedi della croce. Capitolo 20 versetto 2 al sepolcro. Capitolo 21 versetto 7 sul lago di Tiberiade. Capitolo 21 versetto 20 quando Giovanni segue Pietro. Infine capitolo 21-24 dove c'è la firma dell'Apostolo Giovanni che dice proprio il discepolo che testimonia queste cose. L'esegeta Raymond Brown che noi seguiremo in questo ciclo di catechesi cita alcuni esegeti secondo cui il discepolo prediletto che si firma così, il discepolo che Gesù amava, non è una figura reale, cioè non sarebbe l'Apostolo Giovanni ma una figura simbolica, cioè sarebbe ogni discepolo che sta nel cenacolo in intimità con Gesù e poi passa sul calvario. Brown però dice che l'unica figura reale di cui si dice nel Vangelo di Giovanni che Gesù lo amava, capitolo 11 versetto 3, è Lazzaro. Allora si sono chiesti gli studiosi potrebbe essere Lazzaro l'autore del quarto Vangelo visto che si dice che l'autore del quarto Vangelo era il discepolo che Gesù amava e quando si cerca di capire chi è nominalmente questo discepolo che Gesù amava l'unica volta che si dice e si riferisce a Lazzaro che Gesù risuscita ci si è chiesti è Lazzaro che scrive il Vangelo secondo l'esegeta Sanders, divertitevi un po' in queste cose qui, secondo l'esegeta Sanders Lazzaro sarebbe l'autore del quarto Vangelo, Lazzaro avrebbe scritto il quarto Vangelo naturalmente in aramaico, naturalmente sono tesi peregrine. Oggi negli ultimi anni, l'ultimo decennio, grazie anche a Benedetto XVI è tornata la tesi che sia stato proprio Giovanni di Zebedeo l'apostolo a scrivere il Vangelo e Brown che è uno dei, come potremmo chiamare, delle autorità dell'esegesi su Giovanni conferma questa tesi. Ecco, ci sta uno studioso a dire il vero, giusto per fare la cosa completa, di nome Parker che porta tre ragioni per cui Giovanni non sarebbe l'autore e però Brown le smonta una per una. Prima affermazione secondo cui Giovanni non è l'autore. Giovanni era della Galilea, questo è vero, veniva dal lago di Tiberiade, presumibilmente da Cafarnao. Ecco, ma il Vangelo presta attenzione molto alla Giudea, a Gerusalemme. Allora, dice questo Parker, allora questo è un primo indizio che non era Giovanni l'autore, ma dice giustamente Brown. Ma Giovanni ha accompagnato Gesù a Gerusalemme, pertanto ha potuto ben conoscere la città santa. Secondo indizio, secondo Parker, per cui non sarebbe Giovanni l'autore, è che gli Atti degli Apostoli al capitolo 4, versetto 13, presenta l'Apostolo Giovanni come senza istruzione. Ma Giovanni, dice Brown, può aver approfondito dopo la Pentecoste i misteri della fede e soprattutto c'era anche il dono dello Spirito Santo. Terzo contestazione della legittimità di Giovanni come autore secondo Parker è il fatto che nel Vangelo di Giovanni non si parla né della trasfigurazione né della agonia di Gesù nell'Orto degli Olivi, non ci sono questi due brani nel Vangelo di Giovanni. Allora dice Parker, siccome Giovanni era presente, è abbastanza strano che pur essendo presente non li racconti, ma dice Brown che Giovanni non li racconta perché lo hanno già fatto quelli tre precedenti e pertanto Marco, Matteo e Luca e pertanto lui non ha sentito il bisogno di scriverlo. Brown allora parla di un nuovo modo di vedere. Se per molto tempo a causa di Rudolf Wultmann e dell'esegesi liberare il quarto Vangelo è stato considerato gnostico, irrilevante sul piano storico, oggi finalmente, ripeto grazie anche a Benedetto XVI, si assiste, per esempio Brown, all'accettazione che sia stato proprio l'Apostolo Giovanni a scriverlo. Scusate se insisto su questo, mi rendo conto che per voi è una cosa scontata, ma per chi ha studiato teologia ed è passato come sottoscritto dagli Atenei pontifici come la Gregoriana, non è una cosa affatto irrilevante, perché negli anni 90 era ormai quasi ufficiale che non fosse stato Giovanni a scriverlo. Capite perché sto insistendo molto? No, è proprio lui l'Apostolo prediletto, l'Apostolo Casto, l'Aquila, come lo dice Sant'Agostino che ha scritto questo Vangelo. Scrive ancora Sant'Agostino, colui che ha detto queste cose le ha ricevute a sua volta, e quel Giovanni, ve lo dimenticatevi di scrivere verbum caro factum est, verbum caro factum, c'è tutto il cristianesimo giovanneo, c'è tutta la cristologia giovannea. Ecco, ille Ioannes quidis cum bebat super pectus domini, dice Sant'Agostino, cioè quel Giovanni che stava appoggiato sul petto del Signore. Ecco, quindi Giovanni è autore del quarto Vangelo. Ci resta da trattare questa sera per concludere la formazione del Vangelo e poi soprattutto la struttura, e così dalla prossima volta inizieremo a vedere il testo in modo diretto. Anzitutto la formazione, cioè come è nato questo Vangelo. L'evangelista Giovanni, per chi legge i Vangeli se ne accorge subito, ha uno stile del tutto originale rispetto agli altri tre. Gli altri tre si chiamano sinottici, sapete che si chiamano sinottici? Dal greco significa sguardo d'insieme, cioè Marco, Matteo e Luca più o meno hanno una percorrenza che li accomuna più o meno. Invece Giovanni è per conto suo, potremmo dire. Per lui, attenti bene qui, per Giovanni è importante il rapporto tra l'avvenimento storico di Gesù di Nazareth e ciò che egli rappresenta. Cioè, per Giovanni la storia di Gesù di Nazareth rinvia una realtà invisibile e un impatto gigantesco della personalità di Gesù. Chiunque legga il Vangelo di Giovanni si innamora di Cristo, attenzione a leggerlo. Ecco perché la falsa chiesa lo delegittima, lo relativizza il Vangelo di Giovanni. Anche nella riforma conciliare liturgica l'Evangelo di Giovanni è quasi del tutto quasi scomparso. Chi legge il Vangelo di Giovanni rimane, direi, non so come dire, travolto dall'impatto, mi piace questa espressione che ho trovata, dall'impatto gigantesco della personalità di Gesù Cristo. E proprio per questo il quarto Vangelo è quello che ha maggiormente ostacolato la tentazione ariana, sempre presente nella storia cristiana, cioè quella di negare la divinità di Cristo. Ecco, io trovo, vorremmo solo fare un inciso, amici cari, sapete che nei giorni in cui sto in silenzio, siccome mi ritengo un prete abbastanza umile, ho il gusto di ascoltare alcuni confratelli che parlano sui social network, se non faccio i nomi, ci sono alcuni che parlano. Volevo notare questo, notate come questi tali che si intromettono attaccano solo me, perché ho visto questo, gli altri non subiscono questi attacchi. Talvolta mi domando perché, la risposta io la conosco, la conoscono anche loro, sanno chi devono temere e perciò attaccano. Allora, si è sostenuto a lungo che, essendo il Vangelo più teologico e spirituale, fosse anche quello che è meno storico. Invece no, non è così, questa tesi è stata del tutto soppiantata. Scrive Brown, in quanto prodotto del mondo ellenistico, lo si considerò totalmente privo di valore storico, è quello che pensa Enzo Bianchi, ho scritto un libro su questo, domani, domani mi pare, non mi ricordo quando, presenterò un paio di questi miei libri, perché mi è stato detto dai collaboratori, Don Lady deve presentare proprio perché molti non li conoscono, uno è trattato sull'eresia neo-ariana, dove io prendo di mira Enzo Bianchi e il neo-arianesimo corrette, che per esempio dice che il quarto, diciamo, delegittima il quarto Vangelo perché lo ritene un po' troppo, un po' troppo simbolico e ellenistico. In realtà il motivo è perché verbo un caro factum est, capite questa frase qui? Mi ricordo sempre quando ho letto la vita di San Giovanni della Croce, questo monaco mistico carmelitano del 1500, fine 1400, che c'era una suora che aveva dei doni mistici, ma si pensava potesse essere posseduta dal diavolo, nessun esorcista riusciva a capire bene, è andato lui, appena entra in chiesa la suora volava per aria, ma lui disse entrando, et verbo un caro factum est, quella è cascata a terra, è venuto fuori il diavolo, figlioli cari, viene fuori il diavolo, verbo un caro factum est, viene fuori il diavolo. Satana non può sentir dire questa frase, il Natale per Satana vale più della Pasqua, l'esordio è più doloroso dell'epilogo per il diavolo, per tutto l'inferno, per tutto l'inferno e perciò anche per questa falsa chiesa che è infernale, che è chiaramente satanica, l'esordio giovanneo con quei caratteri ignei di fuoco, verbo un caro factum est, è un giudizio tremendo, non resistono di fronte a questo, verbo un caro factum est, il verbo si è fatto ca, c'è tutto, c'è come una sorta di, io la mattina qualche volta prendo queste compresse di magnesio o qualcosa che sono piccole ma hanno un concentrato, ecco il cristianesimo è tutto concentrato in questa pillola giovannea, verbo un caro factum est, va via il diavolo, fugge via, questo può dirlo anche un laico, non semplicemente un sacerdote, un esorcista, qualunque battezzato che dica verbo un caro factum est, manda via il diavolo, è un atto di essor, il Vangelo di Giovanni, sto per dire una cosa che però va capita, è un sacramentale, ecco, ecco, l'ho detto, è un sacramentale il quarto Vangelo di Giovanni, cioè verbo un caro fatto, cioè tu allontani Satana, ecco, perché lì nel quarto Vangelo dalle piste tosse, cioè da colui che ha appoggiato il capo sul petto di Cristo, viene fuori, viene fuori la verità teandrica che è la, potremmo dire, la pietra su cui si corregge tutto l'edificio, cioè Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, verbo un caro factum est, e non è vero che il Vangelo di Giovanni, siccome che, perché guardate che i ariani del quarto secolo, i neo ariani del nostro tempo sono molto sottili, basta poco però per smontarli, non è vero che siccome Giovanni fissa come Aquila i suoi occhi sul suo sguardo di fede su Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, perciò perde di vista la dimensione storica, perché questo poi ti dicono, no? Si è rifugiato nell'aspetto simbolico, teologico, il suo Vangelo è niente affatto storico, è assolutamente falso, lo dimostra Brown come vedremo, perché Giovanni, come dice Brown, è estremamente preciso nei dettagli storici, spesso più dei sinottici stessi, soprattutto nel racconto della passione, Giovanni ha dei dettagli che gli altri Vangeli non hanno, quindi non è vero che chi dice che Gesù Cristo è Dio fugge dalla storia e nega la sua identità umana, io questo l'ho detto tante volte. Inoltre, per esempio, mentre i tre Vangeli parlano di una sola Pasqua di Gesù, Giovanni ne conosce almeno tre, se non quattro, prolungando così il ministero pubblico di Gesù a tre anni. C'è ancora un sottofondo aramaico che smentisce l'idea di una formazione in ambito esclusivamente ellenistico, almeno dodici vocaboli nel Vangelo di Giovanni, i ventuno capitoli di Giovanni sono aramaici, rabbì dodici volte, cioè maestro, poi Messias, l'unto di Dio, Chiefa, cioè Pietro, la roccia, Siloam, che è un nome, Thomas, e poi nomi di località Betesda, Gabbatà, Golgota, e ancora Amen, Osanna, Manna, e sono tutti termini aramaici che dimostrano che l'autore del quarto Vangelo è niente affatto un ellenista contaminato dalla visione greca, come direbbero i neoariani, ma uno straordinario testimone, test oculare della passione di Cristo che ha approfondito l'identità umano divina del Figlio di Dio e l'ha narrata a tutti noi. Ecco, e poi ci sono dettagli storici molto importanti, gli accenni alla regione di Samaria, ai loro costumi e alla loro teologia, la precisa informazione su luoghi specifici della Gerusalemme del tempo di Cristo, come la piscina di Betesda, i dettagli circa le feste ebraiche della Pasqua e dei tabernacoli, i particolari, come dicevo, su Gerusalemme, la piscina di Siloe, poi quando anche Giovanni parla del portico di Salomone, quale riparo per la stagione invernale, questa è una cosa che anche Maria Valtorta poi sottolinea, il pavimento di pietra, vi ricordate, il pavimento di pietra del pretorio di Pilato. È vero, perciò, e vado per concludere questa introduzione così pesante, mi scuso con voi, ma bisognava farla, cercheremo di volare alto, ci aiuterà anche Sant'Agostino, è vero che il Gesù di Giovanni parla in modo del tutto diverso dal Gesù di Marco, Matteo e Luca. Ci sono espressioni chiaramente forti come luce e verità, ma gli studiosi hanno confermato che questo linguaggio era già in uso nella Palestina del tempo di Gesù. Ecco, perché cosa è stato scritto il Vangelo? Devo sintetizzare. Perché cosa è stato scritto il Vangelo? Secondo Brown ci sarebbero quattro ragioni per cui Giovanni scrive il suo Vangelo, poi vi dirò esattamente quello che personalmente ritengo il più attendibile. Il primo motivo per cui Giovanni avrebbe scritto il suo Vangelo è la difesa del cristianesimo contro i seguaci di Giovanni Battista. Non vi sconvolga questo. Ci sono studi che dimostrano, studi di storia delle origini del cristianesimo, del protocristianesimo, che c'è stato un movimento legato a Giovanni Battista anche dopo la sua morte che negava a Gesù Cristo l'identità di Messia per attribuirla a Giovanni Battista. Allora, secondo Brown, una delle prime ragioni per cui scrive il suo Vangelo è per rispondere a questi discepoli Battista dicendo che non è il Battista, il Messia, ma è Gesù Cristo. Il Vangelo di Giovanni sottolinea molto questo. Purtroppo, cari amici, molti cascate nella trappola, non va bene così. Questi massoni o questi satanisti che entrano solo nel mio caso, perché ripeto, ho visto altre catechesi dove i sacerdoti dicono anche cose molto forti, anzi, se seguono li saluto con affetto non vengono disturbati come vengo disturbato io, ma il loro obiettivo non è fare, diciamo così, attacchi a sottoscritto e distrarre voi e molti ci cascate perché gli rispondete e perdete di vista la catechesi e l'opera di Satana è fatta. Praticamente nullifica i miei sforzi perché la maggior parte state rispondendo a questi idioti che non hanno neanche il coraggio di metterci la faccia e sono dei vigliacchi perché chi è di Satana è generalmente sempre un vigliacco, capito? E voi ci andate dietro perché gli rispondete e loro sono contenti, sono contenti perché si intromettono e purtroppo, questo è un dato di fatto, vorrei invitarvi a non considerarli, va bene? Non li considerate perché se non perdete di vista il percorso che stiamo portando avanti. Cari disgraziati che intervenite su questo profilo Facebook, vorrei dire a voi che io stasera già nella compietà pregherò per voi e spero che non starete male per la mia preghiera. Pregherò per voi perché vi convertiate. Primo, chiederò alla Madonna di rispondere col bene al male che provate a fare al sottoscritto. Terzo, siete costretti a dimostrare così che rispetto agli altri sacerdoti che intervengono quello che temete di più è il sottoscritto. Ditelo a chi vi manda. Seconda ragione per cui Giovanni avrebbe scritto il suo Vangelo, quindi il primo per dire che il Battista non è il Messio. La seconda per dire agli ebrei dei primi secoli che Gesù Cristo è il figlio di Dio. C'è un termine nella tradizione giovannea al capitolo 9 in cui chi segue Cristo già nel Vangelo è scritto è aposunagogos ingere, che significa scomunicato. Cioè chi approfessava già nei primi tempi che Gesù Cristo era figlio di Dio, era scomunicato. Capite? Era scomunicato. E allora Giovanni scrive il Vangelo per dire attenzione questa scomunica non ci riguarda, è un po' quello che sta succedendo a noi del piccolo resto. Giovanni scrive il suo Vangelo per dire ai primi credenti non preoccupatevi perché c'era stato un sinodo tenuto da Gamaliele II, da non confondere con Gamaliele, degli Atti degli Apostoli, che aveva scritto che chiunque affermava che Gesù Cristo era Dio era scomunicato, quindi era una scomunicalata e sentenzie. I primi cristiani si preoccupavano di queste scomuniche. Allora Giovanni, l'evangelista Giovanni, scrive il suo Vangelo per dire non temete queste scomuniche perché sono invalide. La terza ragione, anche questa molto bella, Giovanni scrive il suo Vangelo, concluso, per rispondere agli eretici. L'abbiamo detto all'inizio, il quarto Vangelo è un tizzone ardente, un carbone ardente per gli eretici, ancora oggi è così, mentre è una perla preziosa per i credenti ortodossi, cioè quelli che rimangono fedeli alla sana dottrina. Santi Reneo di Lion nel III secolo scrive che Giovanni compone il suo Vangelo per rispondere a un tale Cerinto, cioè Giovanni scrive il suo Vangelo per questo tale Cerinto. Cerinto è un ariano antelitteram, cioè vive prima di Ario, ma più o meno dice le cose di Ario, perché dice che Gesù era figlio di Giuseppe, figlio naturale di Giuseppe e pertanto non c'era alcuna identità divina se non successivamente. San Girolamo invece dice che l'Evangelista Giovanni scrive il Vangelo contro un altro eretico di nome Ebione, che sosteneva anche egli che Gesù fosse figlio naturale di Giuseppe e che la dimensione divina di Gesù Cristo era come un attributo, non un'identità piena. Vedete che sono già i primi segnali di quell'arianesimo che poi si svilupperà nel IV secolo. L'ultima ragione per cui Giovanni avrebbe scritto il suo Vangelo è di incoraggiare i cristiani credenti. Iniziano le prime persecuzioni sia da parte della sinagoga ebraica, del Sinedrio, che poi anche dell'impero romano, perché siamo già intorno al cento dopo Cristo. E allora Giovanni dice, scrive il suo Vangelo per dire non temete se siete apposionagogoi, cioè se venite considerati scomunicati dal Sinedrio ebraico e se venite perseguitati dall'impero romano, perché? Perché siete nella verità. Ecco questo è quello che un po' Giovanni intende dire. E infine un'ultima parola la spendiamo sulla struttura che anche noi seguiremo. C'è piuttosto una concezione unanime sulla struttura del IV Vangelo che anche noi porteremo avanti. Anzitutto il prologo è considerato il più bell'inno cristiano, lo vedremo la prossima volta. Buoyer lo ritiene appunto il più bell'inno cristiano. Sant'Agostino ha un commento assolutamente sorprendente, su questo invito tutti voi a leggerlo. Io paragono il prologo, come vedremo, alle vette dell'Himalaya, come vi ho detto poc'anzi, raggiunta dai più arditi scalatori o ai fondali marini del Pacifico raggiunti dai più abili sub. Cioè il prologo non è per tutti. C'è quel et verbum caro factum est, il verbo, se così si arrabbiano, il verbo si è fatto carne, è tutto sgominato. Questi della falsa chiesa, i poteri forti, una volta il comunismo, oggi la massoneria, organizzano, architettano, loro parlano del grande architetto, progettano. Il progetto è satanico, scalzare Gesù Cristo. Appena te dici et verbum caro factum est è una sorta di abracadabra teologico, capito? Cioè affermi che Gesù Cristo è il figlio di Dio. E' questo che il prologo sottolinea più di tutto. E quindi il prologo. Poi in tutto abbiamo quattro sezioni del Vangelo di Giovanni. Il primo è il prologo che merita una storia a sé, soprattutto perché c'è questa espressione et verbum caro fatum est. Poi c'è il cosiddetto libro dei segni, capitoli 1, in realtà capitolo 2, fino al capitolo 12. Un'ampia sezione che costituisce la prima grande parte, libro dei segni, perché si raccontano i miracoli compiuti da Gesù, che però Giovanni non chiama miracoli, chiama semeia, cioè segni appunto, che indizi per comprendere la sua natura divina. Poi c'è la terza parte, il libro degli addi, capitoli 13, 17, dove si racconta appunto che Gesù sta andando incontro alla sua passione e allora si è accomiata dagli apostoli con quei bei discorsi di addio. Un padre della chiesa l'ha chiamato Orazio Cignea, cioè il cigno che percorre, sapendo che sta per morire, l'ultima danza più bella sul lago. E allora Gesù Cristo, il figlio di Dio, sa che la sua missione è compiuta e infatti la terza sezione, capitoli 13, 17, inizia così al versetto 1 e al capito 13, Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E poi infine ci sono le ultime due sezioni, passione, morte e risurrezione, che è un po' un po', scusate, passione, morte e sepoltura, che un po' noi abbiamo esaminato l'anno scorso durante la quaresima in quel libro che potete chiedere dal titolo, li amò sino alla fine, e il racconto della risurrezione che conclude al capitolo 20, con iniziazione reazionale al capitolo 21, la storia di questo splendido testo che è il Vangelo di Giovanni. Carissimi, io ho concluso questa mia travagliata catechesi per queste incursioni. Volevo dirvi che io sono consapevole della scelta che ho fatta. Tanti miei cari figlioli, amici e fratelli mi invitano, come vedete, io ci ho provato anche senza fare una catechesi senza tener conto delle avversità, ma vedete che il demonio mi viene sui piedi, come vedete, perché mi teme, perché teme la mia presenza. Sono l'unico che ha parlato fin qui con chiarezza, Dio lo sa, per questo mi unge, chi può capisca. Dio sa chi è Don Minutella, che ha accettato due scomuniche, mica stiamo giocando. Dio sa che Don Minutella, rispetto a tutti gli altri che si parano, si è esposto e quindi lo unge. Questa unzione che profuma di Cristo disturba Satana, disturba il diavolo. Perciò anche quando io, come stasera, questa è una risposta per tanti di voi che mi avete chiesto e non siete pochi, Don, adesso basta di parlare da falsa chiesa, di attaccare, si faccia le sue catechesi tranquille. Mi è sembrato un segno del cielo, però anche per voi che mi seguite e mi volete bene, adesso questo è un segno del cielo. Don Minutella non può fare le catechesi senza che, come vedete, anche quando non vuole occuparsi direttamente della vergogna che questa falsa chiesa sta portando avanti e possa starsene tranquillo. Perché, come vedete, ti vengono sui piedi. Ecco, allora questi poveri, poveri farabutti, io dico, verbum caro factum est, godetevi l'insieme delle catechesi. Anche perché loro vedono che, nonostante tutti gli influssi e i flussi che mandano addosso, siccome che c'è la Santa Vergine Maria che mi protegge, non riescono a capacitarsi di come sia possibile, che anche questa sera, questa è una cosa che so io con loro, e spero che però anche voi che mi state seguendo possiate capirla, perché non sto affatto giocando, non si capacitano. Erano certi che questa sera io so questo, come lo sanno loro, non voi. Don Minutella non sarebbe venuto a parlare del Vangelo di Giovanni, Don Minutella l'ha fatto, e questo per loro è la risposta. Che da questa parte stiano attenti, perché c'è la Santa Vergine Maria. Vi benedica Dio Onipotente, non fidatevi figlioli cari di quei predicatori e preti che scavalcano i problemi gettandosi nello spiritualismo disincarnato, la barca affonda, non fidatevi di coloro che vi spiegano di che tessuto è fatto il salvagente, fidatevi del sottoscritto che fischia, che usa il fischialetto e vi dice gettiamoci dalla parte giusta prima che affondiamo tutti in acque profonde. Vi benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, avanti con Maria e alla prossima molto presto.